Dottore, è arrivato questo pacchettino a contrassegno. Vieni da Hong Kong. Bene, lo stavo aspettando. Va a vedere la malattia, va. Tanto tempo che l'aspettavo. La pillola miracolosa della potenza maschile. Ammazza questi cinesi che so. Proviamo un po'. Ammazza i besti, è che? E mo' per farlo tornare normale, come se fa? Basta un fischio. E mo' passiamo alla pratica. Andreina, Andreuccia. Che pio' di spappolo. Ammazza questi cinesi, ho dubito le sole, c'è stanno mezzo bione. Andreina, Andreuccia, vieni un po' qua, che mo' ce penso io. Mi ha chiamato? Guarda un po' là sotto. Guarda un po' là sotto. Ma chi ti ha dato il permesso da fischiare? Va a chiamare la malattia, va. C2, mezzo bione ben costato.